Ciao a tutti, volevo presentarvi il mio nuovo libro di studi sulla scala pentatonica minore. Si tratta di una serie di esercizi che ho fatto per approfondire una scala molto usata, cercando di trovare delle soluzioni nuove e creative. L'ho studiata per intervalli sulle forme, in orizzontale, in diagonale, ho cercato gli accordi derivati dalla scala pentatonica. Gli arpeggi. Insomma, tutto quello che ho trovato l'ho messo poi in bella copia ed è nato questo workbook. Sarà possibile scaricarlo sullo store del mio sito, in formato PDF, vi allegro il link qui in descrizione. Se vi va, iscrivetevi al mio canale, così rimarrete aggiornati su tutti i prossimi video. Grazie mille, buona musica!